ciao a tutti anch'io oggi voglio fare il cane di maiale fitto, guardate, io faccio i ingredienti, canne di maiale tagliato così di doppio, tre pezzi e metti nella uva, guardate le uva, anche sale e pepe nero, io lascio così per 30 minuti, adesso noi cominciamo fitto, guardate, c'è anche pane cattare, uovere così, e poi c'è falina, questo, che è l'olio, guardate, io lo metto nella panella di olio, quando l'olio catta noi mettiamo i maiali, adesso noi mettiamo carne di maiale nella farina, così, e poi noi mettiamo ancora il succo di uva, guardate, poi noi mettiamo su pane cattare, così, metti nella oio la pentola, così, guardate, noi lascio così per due minuti e ci la diamo a due parti, adesso, schiiamo, mettiamo un po' ancora, e poi mettiamo un po' ancora, e poi mettiamo un po' ancora, e poi mettiamo un po' ancora, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.